È stato un grande raduno delle forze che operano nelle diocesi italiane in modo capillare per dare una risposta a tante difficoltà della gente, non solo dal punto di vista concreto ma cercando di prendere in carico le persone. Parliamo delle Caritas diocesane che hanno terminato nel Padovano, a Dabanota Erme, il 40esimo convegno nazionale sul tema «Giovane è una comunità che condivide». Il commento del direttore della Caritas diocesana di Verona, Monsignor Giuliano Ceschi. Intanto è emerso un fatto positivo, che si ripete tutte le volte che c'è il convegno, l'incontro tra le Caritas diocesane che vanno da nord a sud, dove si vede anche una lettura diversificata dei bisogni e allo stesso tempo anche la modalità delle risposte che si mettono in atto. Questo secondo me è un fatto di relazione vincente, non capita quasi mai se non nelle delegazioni tipiche del nord-est o che so io. Però è stato fatto anche un convegno su una tematica particolare. «Giovane è una comunità che condivide». Questo motivo di una comunità che condivide sta a cuore a tutti. Perché? Perché noi sappiamo benissimo che una comunità che non condivide non è una comunità, sostanzialmente. E la Chiesa o è comunità che condivide o è una Chiesa che non esiste. E purtroppo noi abbiamo anche dei segnali, invece che tante comunità non sono inclusive, ma escludenti, purtroppo. Nel senso che c'è una specie di arroccamento, c'è anche una specie di apertura, diciamo, di beneficenza, di prendersi a cuore alcune tematiche inerenti, non so, alla modalità di venire in aiuto, di farsi carico. Ma l'inclusione è un'altra cosa. Al centro c'erano, ci sono stati i giovani. Cosa c'è da dire su questa tematica che sta molto a cuore al Papa? Ecco, c'è da dire che, intanto il Papa ha lanciato il sinodo, che sarà tra breve, c'è da dire che i giovani si stanno affacciando. Però dobbiamo incontrarli nella loro richiesta precisa. Lasciateci spazio. Non vogliate voi dirci cosa sa da fare. Affiancateci, accostatevi.